Vi voglio presentare il signor Enni Ciubotaro che è candidato al Parlamento della Romania. Lui farà un grande lavoro a favore dei tanti rumeni che ci sono nel nostro paese. I rumeni hanno bisogno di tutele innanzitutto dal loro paese e naturalmente anche dall'Italia. Noi collaboreremo per questo. Ci sarà più tutela, ci sarà qualcuno al Parlamento di Bucharest che farà valere le vostre ragioni e io le farò valere qui. Già l'ho fatto nel passato, sarò molto contento di farlo in collaborazione con Emil che è un uomo di buoni principi, vuole portare in politica i principi cristiani e la sua voglia di fare, lavorare per il suo paese, per i cittadini in particolare per i cittadini rumeni che stanno nel nostro paese e che hanno fatto tanto bene al nostro paese. Vi ringrazio. Dopo le elezioni. Speriamo che nel futuro riusciamo a collaborare. Molto bene, sicuramente. Grazie a tutti.